Ciao bambini bentornati nel mio canale il video di oggi avrà come protagonista lui il bello e il carello lo corretto utilizzato è proprio il bello e il carello, una ravinetta e della frutta in questo video andremo a fare la spesa buona visione ciao sono bello e il carello oggi insieme andiamo a fare la spesa e capo la lista arancia fragola ananas banana angoria uva melo andiamo quando sono serba sono verde e quando sono matura sono gialla per mangiarmi bisogna togliermi la buccia un sorriso stampo sulla faccia sono buona e sana io sono non ho banana ho tanti acini succosi dolci e sicuramente deliciosi se li assaggio ad uno a uno non ne lascerai nessuno io sono l'uva non so mela non so pera ho la forma di una sfera il mio succo è nutriente e una bibita eccellente non procuro i mal di pancia ho la buccia sono l'arancia l'uva l'uva rosso verde e gialla sono gold sono l'uva faccio bene alla famiglia sono gustosa sono deliziosa io sono la mela sono tondo tondo sono buona da gussare a sette a cubetti mi puoi mangiare sull'ata di sedere in fresco togliendo la sura io sono l'anguria all'interno sono gialla ho le squame ma non sono un pezzo ho un giucco che sembra una corona ma non sono un re io sono l'arancia sono gustosa e piccolina sono scossa sotto la fogliolina cotta o sfannata sono ghiotta e marmigliata mancò più buona con lo zucchero la panna e la cioccolata io sono la fragola ciao ciao bambini vi è piaciuto il video? se si lasciate un like iscrivetevi al mio canale ciò che ancora non è iscritto e se volete per commentare andate sul mio profilo instagram scritto in descrizione al prossimo video ciao ciao ciao